buongiorno 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 sono venuto qui per le prenotazioni dei regali ti si sono spaccati i baffi babbo natale ma non ma ti sei lì che ha messo la barba finta no comunque tu che cosa vuoi eh vorrei una tazza d'oro tazza d'oro un water d'oro tutto d'oro massiccio e quando faccio la cacca tutto si trasforma in oro e la pepe in mercurio io invece vorrei un disco volante fate delle richieste un po' particolari bambini un disco volante per andare su un altro bambini ecco se è possibile anche un pilota ah con l'autista si guardate bambini francamente io mi aspettavo playstation ma dai ma stavamo scherzando stavamo scherzando non li vogliamo abbiamo già tutto e a chi li do i regali? abbiamo tutti e ai bambinella grafica e anche i poveri di Milano ah ehi vero e pepe d'oro lo voglio davvero ricordate che è un bate ciao ci vediamo il lunedì prossimo Lorenzo Lorenzo secondo me questo era il papà beh anche per me ma io lo sapevo che ero un latitante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti